Alianese e Ravenna si affrontano per rilanciarsi in classifica, l'Alianese insegue i rimini, Ravenna conta di mettersi nuovamente in careggiata, viene fuori una vittoria soppresa del gialloroscio all'ingresso e sotto la direzione arbitrale di Giuseppe Dispolidilocri, l'Alianese prova in pensiero da subito la porta difesa da Botti con questo calcio piazzato a cura di Artioli, dall'angolo stacca di testa Beucci, pallone fuori, in monologo nero-verde prosegue con il tio di Gemmi che termina alto, replica in Ravenna con il traverso di Saporetti ma il colpo di testa di Silla risulta troppo debole, dall'angolo Botti è chiamato la respinta sulla ribattuta e nero-verde non riesce da più in vincente, ma i calci d'angolo sono fatale l'Alianese che subisce il gode di vantaggio ad opera di Aruna che di testa stacca più in alto di tutti portando in vantaggio i giallorossi, incontro più di Ravenna sfiora il raddoppio, la sgaroppata di Guidone porta il tiro finale Saporetti che sfiora nuovamente la marcatura, lo stesso Guidone poco dopo con una combinazione scavalcaricco senza inquadrare il bersaglio, a bersaglio invece ci va dall'altra parte l'Alianese con il solo numero 8 Romeo ma l'arbitro annulla per un'irregolarità, il raddoppio nell'area arriva dopo l'impallo vinto con Spinosi nell'area di rigore che fredda così l'estremo di casa e con questo successo il Ravenna si rilancia in classifica facendo felici i propri tifosi.